e forse vi ho lasciato un pezzettino di sara che stava canticchiando spiderman spiderman perché dobbiamo fare poi la recensione dell'album delle figurine di spiderman o forse l'abbiamo fatta l'arma allora spieghiamo che cosa questa è la seconda serie cioè quella quest'anno escono le principesse disney o play do allora o principesse disney o natoons ma ti ricordi i natoons giganti quelli di cui abbiamo trovato uno squalo due no tre orsi no alci e due falchi no forse quattro per trovare l'orso c'è stata un'impresa oppure per trovare lo squalo ma io volevo l'orso sai perché perché sono un'orsetta esatto e qui è un orsetto lo capirà cosa vuol dire essere un orsetto gommoso anche io sono un orsetto gommoso no assaggiamo cioccolato anche questa volta perché sono tutti manca l'ultimo ma sono tutti arancioni e questa volta hanno fatto l'inverso probabilmente è più chiaro quello lì vediamo se è arancione o è chiaro non so se dice si uno no tre su tre sono natoons tre su tre sono natoons non potevano fare il contrario eh tu volete principesse allora intanto vi dico già che il primo rinoceronte ma lo faccio per andare a vedere la checklist che non c'è o meglio si intravede uno stambecco un panda un tipopotamo e poi voglio il panda una pantera un narvalo quello che ho trovato io non c'è in questo ma neanche io infatti ho trovato un rinoceronte che non c'è andiamo ad assemblare il rinoceronte io ho trovato una cosa molto bella ma tu monta che io l'ho fatto che male sono riuscito a montarlo in allora natoons sempre tanti tanti complimenti perché è veramente fatto bene lo sculpt è veramente bello guarda che carino guardalo bellissimo vi dico che si ripiega la testa con la zampa la lupo si ora come piega benissimo la testa è fatto veramente veramente bene che lo andiamo a posizionare ci abbassiamo un pochino in modo tale da andare a metterlo a fuoco forse eccolo qua il primo via vetto bene sono riuscito a distruggere il lavoro di sara perfetto allora il lupo è già meno bello è o volpe siberiana non si capisce bene sia un lupo una volpe non un lupo direi però che cosa hai trovato un animale brutto piacerà a me allora questo è il secondo non piacerà neanche a me però diciamo il rinoceronte con il rinoceronte avevamo partiti molto bene il lupo secondo me ha perso un po una volta al lupo andava come il pane e adesso lupo citini nascosto che cosa abbiamo trovato lo fai apposta rinoceronte e lupo possiamo siamo graditi invitati a vedere che cosa è un dromedario che fa un bellissimo rumore perché non muove la testa il rumore fa la muove anche se mi guarda mi sente pochino perché si deve si diciamo che tra la scuola scelta di animali da collezione e rinoceronte il più bello il lupo no rinoceronte tutta la vita mettilo vicino scuola guarda come è fatto il muso del rinoceronte molto più bello va bene comunque non capisco la cosa del 3 su 3 nel senso che se fai 3 su 3 di natunza allora veramente fai 3 su 3 di principesse e le collezioni però finiscono in un attimo o perché chi ama gli animali deve essere più fortunato di chi ama le principesse non la capisco questa cosa boh magari perché deve uscire una un'altra collezione non lo so non so prendiamo atto di quello che è che sono belli così potete vedere in anteprima le prime uscite delle collezioni autunno inverno di della kinder sorpresa eccoci qua e poi da noi non fa poi così caldo e però gli ovetti si sciolgono in estate ma non siamo in estate no per questo ripartono a settembre di solito infatti riparto però non fa molto caldo devo dire no ci sta bene la mattina diventi un po l'aretto sì la mattina fa un po freschino il pomeriggio proprio cioè da maniche corte ma siamo sicuri siamo sicuri che debbano ancora uscire delle nuove collezioni verso natale poi usciranno le nuove di natale quelle particolari coi collezionabili da prendere all'albero eccetera eccetera e noi ci saremo sempre con voi per essere aggiornati dovete schiacciare la campanella o meglio iscrivervi al canale mettere un like commentare schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video e come sempre noi vi sentiamo e ci vediamo al prossimo video ciao